per la notizia che riporta in taglio basso. Vediamo nella foto un Beppe Grillo molto più giovane che si vede stampare un bacio dall'allora moglie di Mick Jagger, Jerry Hall. Riconosciamo Mick Jagger sul palco con i Rolling Stones che c'entra Grillo. Ebbene, lo ha spiegato lui direttamente in video. Grillo che sta portando avanti una battaglia con il sindaco di Roma, Ignazio Marino, per ottenere la disponibilità del Circo Massimo per la festa nazionale del Movimento 5 Stelle, è arrivato a invocare Mick Jagger. Perché? Perché con i Rolling Stones è stato protagonista di un concerto quest'estate proprio al Circo Massimo con tanto di polemiche per i costi da molti giudicati troppo bassi per assicurarsi l'area così storicamente e archeologicamente pregiata. Ma andiamo a sentire allora l'appello di Beppe Grillo. Mick torna da noi, Mick con i Rolling Stones tornate. Dobbiamo fare una grande manifestazione come il Movimento 5 Stelle al Circo Massimo se non tornate voi. Marino, il sindaco, non ci dà lo spazio. Quello spazio lì è stato dato a tutti, è stato dato a te per pochi soldi anche. Ti abbiamo trattato benissimo, è stato dato la CIS, la WIR, a un sacco di società. Perché Marino non ce lo deve dare a noi? Marino, dacce il Circo Massimo a Marino!